Ecco, esibizione dei Pulcini contro il Fossacesia, contro i pari età del Fossacesia a calcio. Il Fossacesia a calcio indossa i calzoncini rossi, i calzettoni bianchi e maglia bianca, mentre la Virtus Castelfrentano gioca con la classica divisa nero-azzurro. Luca non mi servi là! Non mi servi dietro l'avversario! Luca non mi servi davanti se no niente! Sali! 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 Luca dietro l'avversario, non mi servi! Ecco, esibizione rimessa da parte del Fossacesia, un difensore lancia nell'area della Virtus. Luca! Il gioco riprende con una rimessa laterale. Marco! Marco!